Un ragazzo inquilino di un appartamento Telefona al proprietario della casa e si lamenta Perché dice che ci stanno i topi Ma che il proprietario fa? Ma è impossibile, ma che dice? Quali topi? E venga a vedere, insomma il proprietario scende Va dentro l'appartamento, sto ragazzo tutto un cazzo Gli fa guardi, spalanca la porta, gli fa vedere un buco Per terra, no? Sul coletto Gli fa, guardi, guardi, eh, via un pezzetto di formaggio Lo mette fuori al buco Come lo mette fuori al buco? Esce una trota al volo Se chi ha per formaggio rientra E il proprietario della casa sbalordito fa, ma che cazzo era quello? E il pischello gli fa, dell'umidità ne parlamo dopo Ahahahah